I'm a Tia, I'm a Dreamer, partecipo a questo progetto perché mi sento un po' un sognatore. Il fatto mi ha portato qui e devo dire che devo veramente ringraziarlo perché mi ha fatto conoscere nuovi amici, nuove persone veramente fantastiche che mi stanno insegnando molto e spero di stare insegnando anch'io molto a loro. Stiamo facendo dei progetti di musica e di arte varia come pittura e ho imparato in questo progetto che l'arte abbatte tutte le barriere linguistiche. Per quanto non ci si riesca a capire magari tra due lingue diverse, quando si suona assieme si è connessi senza bisogno di dire niente. Peace! Grande! Resta un traguardo per quanto ogni sogno è possibile, plasmabile, condivisibile.